sono simone giubilato e oggi vorrei presentarvi la nostra azienda gruppo gb innanzitutto è d'obbligo un ringraziamento ai miei genitori che hanno iniziato con il loro laboratorio artigianale circa 30 anni fa a loro il merito di aver dato a me mio fratello mauro la fiducia necessaria per permetterci di diventare una realtà industrializzata gruppo gb è una realtà strutturata sette centri di lavoro cnc di ultima generazione con gestione commessa industria 4.0 un team giovane con quattro diverse business unit gb technology è il vero cuore pulsante dell'azienda che si occupa di lavorazioni conto terzi per svariati settori supportiamo aziende che spaziano dall'arredo di interno ai semi lavorati dell'industria del mobile dal trattamento dell'aria agli impianti antincendio mercati molto particolari con esigenze e servizi che supportiamo grazie alle molteplici tecnologie di taglio dalle semplici fresature ai tagli tridimensionali con i water seconda divisione è gb outdoor che progetta e produce strutture per l'esterno dalla pergola bioclimatica alla casetta da giardino di design soddisfiamo sia le esigenze più tecniche ed estrose degli studi di architettura quanto le richieste dei privati dalla progettazione alla consegna chiave in mano ed è proprio grazie alla plurinale collaborazione con progettisti e studi di architettura che è nata facciata creativa il nostro brand di progettazione lavorazione posi in opera di facciata ventilato infatti grazie al know how e alle nostre tecnologie di taglio riusciamo a industrializzare ogni singola fase di gestione della commessa realizziamo facciate metilate con diversi materiali dalla resina stratificata hpl alla ceramica dal fibro cemento all'alluminio composito altra forte divisione del gruppo è gb orse che produce strutture per il mondo dell'equitazione grazie alle nostre tecnologie e la varietà di materiali che trattiamo questo è il settore che ha portato gruppo gb fuori dai confini nazionali con installazioni in tutta europa ed oltreoceano grazie a tutti Grazie a tutti.